ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale io sono grace proseguiamo la nostra avventura con il gioco di fallout 4 precisamente oggi andiamo intraprendere l'avventura anzi la missione at victoria e siamo esattamente al 121esimo episodio ok dobbiamo andare a parlare con la tipa la la quindi questo è il mega robottone che abbiamo aiutato a costruire ed è veramente cazzuto allora la tipa è lì la diffusione a capiamo parliamo abbiamo pre inserito le coordinate di battaglia nel suo processore di navigazione non appena sarà alimentato si dirigerà verso l'istituto l'anziano max vuole che tu lo segua e che ti assicuri che arrivi al città va bene la fortuna non serve guarda breve la fortuna non serve ho parlato con l'anziano max e abbiamo pensato che spetti a te l'onore di avviare liberty prime inserisci l'agilizzatore alberiglio nello scompartimento del reattore torna qui e premi il pulsante per avviare il trasferimento buona fortuna paladino ad victoria va bene inserisci l'agilizzatore alberiglio ok allora un attimo che volevo vedere innanzitutto che armi a che abbiamo ok abbiamo il lanciachiodi sparachiodi anzi non abbiamo dietro il lanciamissili allora deve avercelo lei il nostro ehi che c'è oh certo fammi portare tutta la tua robaccia dai dai su eccolo qua ok allora dobbiamo andare la sopra dove eravamo prima qua inseriamo lì l'agitatore o quello che è si funziona anche l'ascensore fa che non cadere ok perfetto tutti qua pronti i cazzuti all'azione aspetta ma qua sotto non c'è niente a raccattare qua dentro no un pezzetto che non c'è la selezione neanche questo forse yes ok possiamo procedere scherziamo the buttons ma chi ti vuole parlare tutti i sistemi nella nota armi pronte missione ammientare tutti i comunisti cinesi probabilità di una vittoria cinesi guarda che ti schiaccia postati di lì ok mi sa che ci stiamo dirigendo all'istituto ragazzi io direi di partire direttamente con questo lancia missili e vediamo un po' che nemici è che dobbiamo andare a seccare speriamo di non farci schiacciare se non solo noi che andiamo dietro il robottino gli altri eh pa allora vediamo un attimo la mappa noi siamo qua noi siamo qua e l'istituto è dov'è che era l'istituto eh adesso non me la segno più perché ci siamo andati con la fazione del dei cavalieri d'acciaio ma dovrebbe essere oltre il fiumiciatto l'indicativamente qua ok la libertà è un diritto di ogni cittadino americano beh il robottino è una figata ragazzi allora vediamo un po' a che punto siamo stiamo andando di qua ok allora sintetici allora clicchiamo via lanciamissili e usiamo quella da dunque quella a cella questa qui non li facciamo niente sintetici questa qui da 45 direi 81 81 questa qui poi casomai successivamente andiamo a cambiare ma vabbè tanto c'è lui che fa piazza pulita di tutto quindi non dobbiamo neanche stargli a sbatterci più di tanto ragazzi vale sempre la vita noi racchettiamo tutto poi elementare qui non ci siamo mai andati poi successivamente avremmo fatto un giro magari c'è qualcosa di interessante ecco un po' di energia aspetta acqua solidificata ok vabbè meglio di così qui guada non ce n'è ma gli schiaccia anche con il piede rilevato ostacolo percorso terrestre al massario con proiezione probabilità di ostacoli alla missione 32% raccattiamo raccattiamo ragazzi nuova strategia attivazione dei protocolli di movimento acquatico acquatico che ne vanno va anche nell'acqua allora quindi va di là lui vediamo un po' la mappa ragazzi attraversa qui quindi direi andiamo lì dietro anche se prendiamo un po' di radiazioni casomai ci prendiamo un fastidione andiamo un po' inventario provviste la resistenza alle radiazioni 100 ok prendiamoci questo e andiamo lì dietro direttamente sì perché se stiamo là a fare tutta la costa non ce la chiamiamo più ragazzi adesso casomai noi arriviamo direttamente qua sulla riva ok e ci prendiamo un altro pasticchione guarda che era il questo ok e un e questo ok così siamo a posto lui lui passa di d quindi vediamo un po' se riusciamo a saltare qua sì ok gli altri cavallieri sono arrivati facciamo di sparare a loro così noi non consumiamo le munizioni anche perché ci hanno la le mini nuke miglior mega robottone e infatti ce le va a tirare direttamente sulle testa noi mega robottone ok amici siamo al punto di prima ma da quello che ho capito dobbiamo stargli dietro perché questo robottino qua è un po' un coglione e lancia le bombe le mini nuke addosso anche ai gli alleati ci avrà qualche difetto nella centralina mi sa perché è impossibile che vai che va a tirare il le bombe mini atomiche sui propri colleghi della propria fazione comunque noi stiamo dietro così così siamo a posto ok intanto raccattiamo tutto vediamo un po' a che punto siamo della mappa ragazzi siamo qua se dobbiamo arrivare quindi che finalmente presuppongo il video del cheat qua dovrebbe essere ok proseguiamo vediamo stiamo lì dietro andiamo qua attivate what not tutti i veri americani hanno il dovere di onorare i caduti ok ok questa è bunker e read bunker e read perché abbiamo fatto una bella missioncina protocolli difensivi attivi tutte le forze alleate restare in prossimità ok ok proseguiamo proseguiamo stiamo lì dietro stiamo lì dietro ecco come avete visto ragazzi lancia mine e le bombe a tutto andare ma resto qua quindi ok ora calchiamo qua quello che è rimasto scelto segno valutazione operativa tutti i sistemi attivi io e tino primaria guarda su questi lanciano minabombe fondare, missili e quant'altro e comunque questa missione è una figata ho visto là un mega mostro là in fondo vediamo di non farcelo scappare ok perfetto ecco proprio qui dovevamo andare su c'è rifugione mano, lasciare da bara anche no si no vabbè prendiamolo guarda guarda ragazzi l'ha preso su mi hanno staccato la testa fantastico fatto proprio bene ragazzi ma figata questa missione era in giro con il mega robottino facciamo andare avanti lui penso che quelli lanciano i missili e noi torniamo qua e racchettiamo le varie cose se c'è qualcosa di interessante vediamo un po' ok stiamo raccogliendo più munizione adesso in questa missione che in tutto il giochino è preferibile la morte al comunismo scenda di fusione le prendiamo le munizioni le prendiamo andiamo 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 la liberazione della lastra è imminente guarda we munizioni munizioni li hanno toccato ok ok dobbiamo essere arrivato il punto di destinazione ok ok obiettivo raggiunto c'è la di fusione munizioni quindi siamo arrivati al punto di destinazione attacchiamo tutto analisi delle difese andiamo anche su qua allora qui ok ancora ce ne sono ok ok buono abbiamo ammazzati tutti attenzione attenzione rilevato complesso politica cinese sottermate profondità 5 metri composizione sottermate guiaia e comunismo valutazione attaccare il complesso deve ripristinare la democrazia attenzione il personale invitato a mantenersi a distanza di sicurezza abbracciate la democrazia abbracciate la democrazia o sarete sterminati fantastico ragazzi suppongo che stia facendo un buco nel terreno visto che non abbiamo più il teletrasporto per entrare nella l'istituto di conseguenza sta facendo lui un un ingresso noi continuiamo a finire di raccattare qua tutti questi cadaveri qui si ecco vogliono niente c'è la diffusione andiamo ok si c'è di un buchino c'è di un cratere ok adesso vediamo di insinuarci dentro l'istituto andiamo di pulire tutta qua la zona ok ok adesso il propottone quindi ha fatto ha fatto il suo dovere e di conseguenza noi dobbiamo entrare dentro allora vediamo un po' armi partiamo con questa e poi vediamo un po' ok ok vittorio incompletato 635 punti esperienza e iniziata l'opzione nucleare è combinata o no perfetto amici allora vediamo un po' questo lo vediamo nel prossimo appuntamento ok amici direi che il nostro episodio termina qui spero che la nostra avventura vi stia piacendo in tal caso se non siete iscritti al canale iscrivetevi se vi è piaciuto il filmato lasciate un bel like vi ringrazio per avermi seguito ci vediamo con il prossimo gameplay un saluto a tutti da GraceGamer78 grazie a tutti